ciao a tutte ragazze benvenute in questo nuovo video ho cambiato molto velocemente le decorazioni del mio sfondo perché sto registrando video uno dopo l'altro così velocemente avrei voluto registrarvi anche altri millemila video prima di pasqua possibilmente visto che sono video a tema autunno inverno ma accontentiamoci ragazze per il momento registro questi due video e non appena mi sarà possibile ve ne farò altri volevo farvi anche un haul natalizio di tutte le cosine che avevo acquistato ma penso che non farò in tempo ma bando alle ciance ragazze concentriamoci su questo bracciale che finalmente ho terminato è l'unico che ho così bello pieno e carico e vi dirò e odio amore perché da una parte i bracciali così pieni mi piacciono e dall'altra talvolta li trovo un po troppo ingombrati siamo dalla base che è il bracciale con la maglia snake questa è una misura 17 con la chiusura a foglie questo bracciale è un fuori produzione ma con un po di fortuna riuscite a trovarlo ancora sia su ebay occhio attenzione prestate sempre molta attenzione e anche su vinted a volte riappare anche sul sito pandora quindi mi raccomando prestate attenzione questo è un bracciale senza filettature perché io odio le filettature non riesco mai a gestire non riesco mai a gestire vi ho già spiegato in un altro video qui abbiamo la catenina di sicurezza con il pavè trasparente questa è la versione in in rosa si presta bene con tutti i charm appunto del bracciale visto che come potete vedere sono alternati alcuni argento e alcuni in rosa e costicchia ragazze però veramente è una cosa meravigliosa entrambi i lati abbiamo le libellule scintillanti che adesso vedete al contrario perfetto libellule scintillanti le alucce sono ricoperte da cristalli e zirconi e vi dico subito che una delle due l'ho acquistata su ebay è perfetta se non per quanto riguarda l'anellino forse riuscite già a vederlo questa è l'originale mentre questa all'anellino leggermente storta è quella che ho acquistato su ebay e probabilmente non è originale ma me la tengo lo stesso ragazzi me la faccio andar bene quindi non ho ben capito da che verso ve lo devo mostrare sto bracciale mi sa che devo rimontare i pezzi vanno a richiamare alla perfezione perché sono identiche quindi viva viva l'originalità in questo caso ma va bene così poi abbiamo zucchetta e cuorecino con l'albero della vita si richiamano sia come colori che come forme quindi la zucchetta autunnale con gli occhietti a cuoricino adesso la vedete a testa in giù portate pazienza eccola qui c'è anche la punzonatura su questo lato e il cuoricino appunto si presta bene per questo bracciale a tema bosco autunnale perché abbiamo appunto un alberello i cuoricini mi possono andare a simboleggiare l'amore che ho per l'autunno e la parte dietro è fatta allo stesso modo quindi abbiamo sempre il nostro alberello cuoricioso poi abbiamo speculari i due open work in rosa con un trepudio di cuoricini questi li trovate senza alcun problema sul sito sono ancora disponibili e non costano neanche molto e poi abbiamo altri due pendenti abbiamo la ghianda la ghiandina con tanto di foglia quindi è un doppio pendente e anche qui abbiamo un altro pezzo in rosa ovvero la pigna con con l'ago di pino passiamo oltre ragazzi abbiamo due fuori produzione sono i funghetti anche questi si abbinano perfettamente perché funghetto da una parte funghetto dall'altra qui abbiamo il funghetto con la fatina sono entrambi bruniti in argento ma bruniti come potete vedere mentre di qui abbiamo il funghetto con la ranocchietta molto carini ragazzi non sono neanche tanto ingombranti e mi piacciono abbiamo poi anche qui speculari le due murrine iridescenti ragazze queste mi piacciono tantissimo intanto perché sono sì cicciottelle ma belle compatte non occupano troppo spazio sono trasparenti e al loro interno hanno queste pagliuzze iridescenti che cambiano colore in base a come vengono colpite dalla luce i rivetti sono decorati con questi spirali a forma di cuori stupende ragazzi ve le straconsiglio se riuscite a trovarle ancora meravigliose e qui poi arriviamo alla sezione centrale come potete vedere abbiamo due pendenti di qui abbiamo la foglia scintillante doppia medaglietta in rosa e sotto abbiamo la medaglietta con il trepudio di cristalli e di zirconi in bianco e in color ambra di qua abbiamo la coppia di funghetti e anche loro se non sbaglio si chiamano funghetti scintillanti vediamo se riesco a farveli vedere meglio e anche loro hanno qualche cristallino qui e là e poi abbiamo i due animaletti abbiamo il recetto lui ha gli occhietti e il nasino smaltati di nero l'ombelico a forma di cuoricino di aculei molto molto carino qui abbiamo il coniglietto molto simpatico e carino anche lui sulle zampette ha dei cuoricini e qua vicino all'orecchietto vediamo se riesco a farvelo vedere a una margheritina la codina a forma di pompon tutta texturizzata e infine come pezzo centrale abbiamo un charm che non è un pandora lei è la baby pixie quindi l'elfetta di aurora charm guardate quanto è piccola ragazze ma quanto è ricca di dettagli è super definita abbiamo i suoi occhietti addirittura le ciglia lunghe il nasino la boccuccia è strepitosa ragazzi mi piace veramente un sacco e potete trovarla sul sito pianeta biz vediamo se riesco a farvi vedere la ponzonatura di lei ok lei è una s 925 ms mi piace veramente un sacco niente ragazze io a tratti lo vedo incasinato e a tratti lo guardo e tipo mamma che bello dipende come mi gira in base alla giornata ragazze spero che questo video vi abbia tenuto compagnia vi sia piaciuto io vi mando un bacione grandissimo e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao